566 567 568 Finito! Visto che meraviglia, Paulcake! Sto per battere il mio record personale di guarnizione di cupcake! Oh, guarda qua! Non riesco a credere ai miei occhi! È uno spettacolo sorprendente, devo metterlo io stessa! Pinky, ti spiace stare alla cassa mentre faccio un salto in dispensa? Abbiamo appena ricevuto un ordine molto speciale e gli ingredienti devono essere perfetti! Agli ordini, capo! Grazie! Un bebè! C'è in armor il princess scadens avrando un piccolo! È la notizia più bella del mondo, non vedo l'ora di tirarlo a file! Oh, ehm, Pinky è un segreto segretissimo! Deve restare un segreto! Dovrò tenere questa notizia strabiliante! Soltanto per me! Anche se in realtà non ho fatto alcuna promessa alla signora Cake, non posso raccontare la novità né a Twilight né a nessun altro! Altrimenti diventerei una... una... una terribile antipatica guasta sorprese! Non credi, Gammy? È quello! L'hai preso di nuova pancake? Non lo sai che è una brutta cosa rubare un bebè? Di quale bebè parlavi? Cosa? No, non parlavo di nessun bebè! Ti ho sentita, signorina Pai, due secondi fa? A cosa ti riferivi? Splendido! Ci siamo tutte! Così finalmente posso darvi una magnifica notizia! Riceveremo una visita molto speciale a Ponyville e ho bisogno di voi per preparare ogni cosa! Verranno... Shining Armor e Princess Cadence! Esatto! E arriveranno... Domani! Già, con... Con l'espresso dell'amicizia e non con la freccia dell'impero di cristallo per dare meno nell'occhio! Già! E... E... È tutto qui! Ah, sì! Ehm... Tu come hai saputo tutte queste cose? Intuito di Pinky! Allora, dicevi che ti serve il nostro aiuto? Seguitemi! Che bei poster! Ma questo non è Smash Fortune? Sì, è lui! Quando Shining Armor ha detto che sarebbe venuto a trovarmi ho raccolto alcune cose che gli piacevano da piccolo per fargli una sorpresa! Una sorpresa? Ero così emozionata che è stato difficile tenere il segreto! Mi sarei sentita malissimo, immagino! Oh, com'è carino questo terrario per formiche! E guardate questi vecchi fumetti! Fa' attenzione, sono rarissimi! Questo cos'è? Oh, com'è carino! Oh, com'è carino! Anch'io! Ma vorrei aggiungere ancora due o tre cose prima che arrivi e mi serve uno zoccolo per trovarle! Di qualsiasi cosa si tratti, conta su di noi! Oh, sì! Sì, siamo pronti! Grazie, infinito!